Avete presente quando noi facciamo il Javon Crate? Javon Crate Eccle, qua In genere ci mettiamo d'accordo il giorno prima Oh! Allora non si fa colazione, eh Oggi non si fa colazione perché dobbiamo mangiare... Io non ho fatto colazione Ho mangiato un gelato. Voi direte Vabbè non è niente, perché era un ringo gelato di quelli nuovi Questo viene da Utashima Nishishish Nishishish Nishiyodogawaku Ah, vicino Foggia. Allora, apriamo il che è un bellissimo Japan Crate Adesso possiamo dirlo Japan Crate Japan Crate Nel Mentre Bravo, sembri quasi di me Nel Mentre, oh veramente è bello guarda Tu è bello organizzato C'è il volume 24 Potremmo fare la raccolta ma li buttiamo sempre Ragazzi, il volume 24 Io lo eviterei, siamo in un condominio poi ci cacciano Ah Ci sono arrivato adesso European Rice Snack Ah, riso, snack di riso europeo Perché ce lo mandano? Ah, queste ma le abbiamo già assaggiate Davvero? Quelli salati come la merda che sanno di vaniglia e poi ti fregano Sono buonissime però A me mi sono tantissimo Allora, io non riesco a sentire la vaniglia, poi metto in bocca il salato mi fa brutto E' vero, però sono buone Sono buonissime Però l'odore di vaniglia l'avrei evitato Delicious, crunchy, crispy Dread Dolcettino Well balanced nutrition Che pensano anche la... Si si, come no, ti alza la pressione questo qua Ma questo pure l'abbiamo visto già Qual'è questo? Quello che ha la zuppa di ingazzi qua Ma è tutta roba che abbiamo già visto Ma è tutta roba che abbiamo già visto Allora ragazzi vediamo questa stella a mare ad agosto Senti ma questo è un japancrete che a noi è già arrivato No Cioè si Mi sembra, no Qualcosa di dire Ma è vero, ma l'hanno anche inviato Ragazzi Mi hanno sentato un doppione E si perché Non mi ricordavo ma questa era la zuppa Scusa 24 giugno E siamo a luglio E allora oggi facciamo questo Perché questo non l'avevamo fatto la scorsa volta Il culo E si mi ricordo questo E il budino di merda Perché ce ne hanno mandato due? Però questi, aspetta Però qua ci stavano questi Questo sono contentissimo, sono buonissimi questi Quali sono? Sono quelli che mi piacciono un sacco a me Infatti stavo già piangendo che Che fosse Un mattino finito Ma io invece sono contentissimo Sono arrivati questi, questi qua mi fanno impazzire Sono buonissimi Quali sono quelli? Sono sempre quelli di riso Non te li ricordi? A me piace Salati madonna A me mi piacciono un sacco Mangiateli Non mi porto questi ragazzi Questi sono buonissimi Allora Dobbiamo fare questo Perché vediamo, vedete ci sta pure la cosa Bello questo è un È un migiri di Japan great che cazzo vi siete fumati? Beh buona Doppio Buono perché ci sono alcune cose che effettivamente sono molto buone Ma per il resto Oggi facciamo questo Quello è il culo del maiale Allora che ci serve? Sarà un Japan great molto corto Ci serve acqua? Non lo so adesso scompriamo con Leggendo le informazioni Dimmi cosa serve e vado a prenderlo Allora questo qua lo dobbiamo, dobbiamo farlo bene Altrimenti possiamo riprovarci Perché ne abbiamo un'altra Perché ne abbiamo un'altra, ok Allora Ti dico che mi serve Un forno a microonde che c'è No, è latte È latte Senti per una volta leggiamo il volume 24 in inglese o in italiano No Ma lì c'è scritto Ma ci serve pure un microonde 500 watt Dove cazzo lo facciamo? Eh o a casa mia o a casa tua O porto il forno a microonde qua O ne compriamo uno Che non sarebbe male visto che noi è una vita che diciamo che vogliamo il forno a microonde in studio Ma non ci facciamo mai un cazzo col forno a microonde Manco col tosto ci facciamo niente Vado a vedere di là se c'è qualcosa da creare Allora io mi porterò a casa il budino Perché questo va C'è la mia ragazza che è un'appassionata di queste cose un po' giapponotte E poi porto questi cazzi in culo qui che ho fatto vedere prima E il nigiri con un pezzo di polpo finto Una delle cose più brutte che sia mai uscito da un japan crate Il... questo lo conoscete Questo era una specie di piccolo pene di... di zucchero E i fagottini del sor Gennaro Questi qua non erano male Reddits invece si piega tutta la roba alle alghe Questa roba che a lui piace moltissimo Cioè tipo questi snack per la birra Adesso facciamo una cosa che avrei dovuto farti fare tanto tempo fa Tanto ormai è scaduto Ma è stato... è stato al caldo Ma ne frega un cazzo Questo l'ho comprato, io l'ho provato E tu no Ma secondo me è muffito, scusami Si chiama bondis Ma non doveva essere giapponese questa cosa qui Non è giapponese È un riso e cereali alla mediterranea Visto che questo è un doppione ce ne siamo accorti tardi Non è colpa nostra perché non c'è scritto fuori O perlomeno se c'è scritto non l'abbiamo letto Ma questo è un pranzo completo Un pranzo completo che scade nel 2018 Vi faccio vedere Non è possibile Pratico Si può anche scaldare Ma si può mangiare Neanche i mattoni scaldano nel 2018 Questo qua Poi per 100 grammi di prodotto Sono 606 calorie Ma io ne mangerò una forchettata a dire sai No No E poi questa è roba 100% cereali Integra in vegana Senza conservare Quindi come si mantiene è mangiata A parte l'ultima cosa che la trovo pregevole Tutto il resto mi sembra una stronzata Pure Perché io ho visto che si era depositata Tipo una sborretta sul fondo E tu la stai giustamente Guardala che schifo Ti pare normale che quella sbarra là sotto Questa è una cosa Dicevo questa è una cosa Ce l'hai pure appeso al contrario il micro Oh ma che palle Appendilo bene se non si andranno la chiave Brava Questa è una cosa che dovevamo fare già tempo addietro Però E che lui ha sempre evitato come la morte Però Scordandosi Ma per una questione di dimenticanza Guarda che Pure la forchetta fa schifo Allora Io l'ho assaggiato Credo che sia la cosa peggiore che io abbia Io già gliel'ho detto questo Quindi Adesso Facciamo una reaction Ma secondo me è scaduto Ma non è scaduto Mantieniti un attimo Mantieniti un attimo la camera E inquadrati Mi sta inquadrando Ma che? Ma sa di medicina Ok Adesso io lo conosco Ma non è naturale un cazzo Sa proprio di farmacia Ehm dammi una Dai Si ma tieni tu sta cosa Mangio da solo se permetti No perché io ti conosco Sono adulto No io ti conosco Cioè raga io vi farei i sentiti Siamo proprio di farmacia forte Una bella forchettata Piena piena Prendiamo un po' tutto Allora ci sono le olive I cazzi in culo Mi sa che ho mancato un cecio Penso ci sia tutto C'è tutto C'è qualcosa che mi sto perdendo Quello che è caduto È caduto il cecio Non fare il furbo con me Da un facco di ceci Guardi che buono Ma che? Siete mai stati male con la gola? No Prendete l'aerosol Lo solidificate Lo fate a pezzetti E viene fuori questo Sa di aerosol Guardate che schifo Scusate Voglio capire Ingrediente per ingrediente Che cazzo Io la mangio spesso Inzalata di farro Le cose E non buzza così C'è acqua Ceci Riso integrale 14,6% Lo dico riso lungo integrale Riso rosso integrale Pomodori marinati Pomodori 93% 11,5% sul totale Olio di girasole Sale Origano e aglio Cevane integrale 12% Bulgur Grano duro integrale Aveeno integrale Oliva e pomodori Olio extravergine di oliva Italiano 2,1% Origano Sale marinato Contiene glutine È l'origano È l'origano È l'origano È l'origano di pessima qualità Che dà quella cosa balsamica Di un medicinale Dici Poi qua dentro c'è olio d'oliva Extravergine d'oliva italiano 2,1% Il resto è olio di girasole Andassero a fare in culo Andassero Fa veramente schifo Cioè questa la spacciano per roba salutare Sì magari salutare nel senso che non ti fa venire il cancro Una cosa sulla quale ho anche dei dubbi Ma è immangiabile No è vero Ne ho presi quattro Tutti diversi Perché era un'offerta Poi ho capito perché Allora facciamo un appello oggi Facciamo un appello Perché qua dici che facciamo disinformazione Che facciamo le cose Facciamo un appello Cittadini Allora Mangiare sano non significa mangiare schifoso Si può mangiare sano Mangiando cose buone Perché uno pensa che per stare in salute Deve mangiare la merda Giusto Non è così Vedete Revers? Si sta a mangiare una palla di conservanti salati C'ha la pressione a 630 a quest'ora del mattino Quando io ce l'ho tipo a 12 la pressione Mi sono pure allenato Io adesso c'ho il sonno addosso Ragazzi Ma si vuoi qualcosa di caramello che è? Quello me lo tengo io Che ripigli subito Ma no 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 Questo lo devo portare a casa Lo devo far assaggiare alla mia signora E sicuramente rimarrà estasiata Dalla bella consistenza di questo qualcosa Che ricorda il vomito Di chi si è mangiato un sacco di caramello Pensavo altro Ma va bene lo stesso No non sembra la barra Sembra la barra di qualcuno Che l'ha messa in congelatore Comunque sia A parte questi esperimenti Che vi consiglio di fare Avete mai vista la barra in congelatore? Prende tutta una forma Eh? Io ho portato anche questa Visto che era un video a cazzo di cane È diventato un video a cazzo di cane Vediamo che c'è dentro la pallina di ping pong Non c'è niente buono Non so Volevo fare tipo quei video Quegli squishy capito? Adesso Visto che io sono previdente Grande Allora Facciamo un esperimento qui con voi Cosa c'è dentro una pallina da ping pong? Io non ando a mangiare le patatine eh Vuoi quello? Tu lo vuoi pulire a casa? Sai che facciamo? Lo buttiamo nel cesso Perché nell'immondizia puzza Allora ragazzi Una normalissima pallina da ping pong Che ti sarà dentro? Rumore È quello classico Andiamo adesso con la forbice A praticare un foro Questa è pericolosissima Non la fate a casa Non puoi tagliarla C'hai ragione pure Attenzione No fermo 100.000 like per vedere cosa c'è dentro la pallina Stiamo per scoprire Guarda come sono eccitato Ma veramente? L'hai visto?